E' sotto gli occhi di tutti che nel finire del mese di novembre, inizio di dicembre, c'è stata una delle più grandi operazioni antimafia sulla città di Foggia e mi riferisco a quella denominata Decima Azione, la quale ha inferto un durissimo colpo ai clan criminali della società mafiosa foggiana ed è inevitabile che la conseguenza è quella di un tentativo di riassestamento e di riequilibrio da parte dei gruppi e dei gruppuscoli mafiosi ancora sul territorio di appropriarsi del territorio e di inserirsi in questo contesto. Per questo motivo si parla di colpi di coda e per questo motivo noi dedicheremo la dovuta attenzione e siamo fiduciosi di poter anche dare risposte a breve.